Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Abbiamo oggi 4 Megateen Non mi aspetto niente ma sono già deluso Comunque, comunque va, dai, partiamo già così, piangiamo in anticipo Prima di iniziare voi sempre vi iscrivetevi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati con il mondo di giochi e non solo Grazie mille, ricordo sempre l'Infantasia Store Con il codice sconto per ordinarlo E... Oltre a quello mi sono preso anche le fotografici del Doc Strange Di Magic Così posso fare il Monoblutempo molto meglio Io chiedo scusa perché è lungoloso Non si vede un'emerita ceppa E... Niente Vabbè sono 4 Speriamo di trovare qualcosa Allora Scataclonsh Eccoci qua 1 2 3 E partiamo con il primo pack Allora Se voglio vedere un attimino se si vede Tragedia Favoloso Non so che tu sia Incasso tribrigata Ok Guki Migrabrezza La Sfinge è carina Non mi dispiace Shifter Perché la carta secret È più inutile Che avrei potuto trovare Perché ce n'ho 40 Ah mi sembra che mi serviva Buono Cioè la carta E poi ho visto fusione No? Mi sono un attimo Illuminati gli occhi E niente Via Ok Ok le carte Siamo abbastanza bene Questa cosa c'è qua Pro Shifter Buono Ho appoggiato la bustina Su Commedia Dispia Ciccio Caio Sempronio Parchiave in bianco Ok Un HT Degame ma è tutta roba che non mi serve E tribrigate kit Che non mi serve un cavolo Ok Un denier Un altro denier Sono contento per i denier Cioè ma ci stiamo rendendo conto? Però trovo 2 HT Però trovo 2 HT Allora Ah bello Lui mi piace un botto Ok Mi piace un sacco Cioè sono più contento per le comuni Che per il resto Insomma Ok Jizz Smack Le pesi a scatenato Cosa Construzione Zex Mamma mia Ma che è? Drago Rosarox E Magistus Che era sbroccatissimo Cioè sono meglio le comuni Che Sono meglio le comuni Che le ultra Meno male non me le so preso Tanto Cioè Meno male Me ne so preso solo una Insomma Fatto schifo questo Cioè ho trovato shifter Un po' di onda a mezzo Cioè comunque Nel Nel Una carta L'hai trovata Nel senso La polvere raga la polvo, io sto sempre a pulivo cosciuta due e tre si potrei aprire tutto insieme ma non mi piace madonna ma sono incollati con lo stucco un ritornello, un'altra inghiacciata un altro jeep smack si povoloso tradimento mascheri, buono naggia a voi e e dai tpe e diamo ma che bello che bello e su ship che mo' vuoi far montare a me non piace su su ship ho trovato dp, è a posto eccezionale ecco perchè era poterato col carcio e struzzo c'è dai sacrificabile carta carina ah che bello dp è drago forse è meglio che faccio così perchè ha portato fortuna anche se un'altra ht obelisk tizio e vabbè pro wanders e altri cc bello grazie bello comunque non me l'aspettavo quindi dai dai siamo contenti incontro drago armato tuono tuono livello 3 milizia drago armato buono ok scusate io guardo qui non guardo lo schermo quindi intanto sbarello ok ah opening dai dai zitto zitto comunque mi sto finendo sto prendendo un botto di roba brandon quindi ma no avrei fatto a meno di albion secret maschera e qualche altra cartina guarda se sei pure tu fuderato col calcio e strusso ma va bene perchè insomma raga ho finito spazio sulla scrivania inconcepibile vediamo cosa c'è per terra c'ho spazio e a porve e andiamo su ship e dai un altro meno male io sono contentissimo per il comune ok setto mangio uomini mi sembra giusto mi sembra corretto un altro obelisk ragazzo maganero si a parte mi stava iniziando a costare una cifra in mani però ma duro perchè è una dark magician girl il mio primo un altro magistro il mio primo amore ma che bello ma che bello 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 ragazza maganero bello mi piace mi piace mi piace mi piace bustine su una tastiera sulla scrivania ok per la fine intanto ma se sta sposto a tutto perchè sto a famacello dragone tpe ma stiamo scherzando ma veramente e magari ma stiamo scherzando ma 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 stiamo scherzando stiamo scherzando un altro masquerade che figo non mi ricordo cosa manca giusta la prosperia no oddio ho visto fusione mi ha preso un principio e andiamo a vedere l'ultimo allora io sono soddisfattissimo perchè volevo dragone in realtà io volevo soltanto dragone e ho trovato pure il tpe e ho trovato anche maganero quindi io miglior opening fatto sul canale perchè ok i prezzi si sono abbassati non mi frega un cazzo però tpe dragone raga mamma mia tanta roba e poi solo 4 tin non è che non ho preso un case 4 tin e soprattutto dragone e tpe meglio per me per una volta cioè vabbè facciamo a volte c'è ancora il dolore ai denti dal dentista oggi ok vabbè tutti ht la sfinge piccolo mousse vabbè 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 schifo non fa scala soltanto non ho trovato un altro no small world non è va bene va bene va bene insomma ultimo deve essere veloce perchè ho sempre ora e magari mi finisce la memoria un altro di voi despia dai un altro ok nipiru nipiru dai ecclesia vabbè dai raga sono troppo contento non ce n'è mai star a giocare così mamma mia vabbè un ultimo pacchettino non chiusciamo così il favoloso urla del macchiato cilindro il mech caso lei è nostro ash ash nipiru dragone dp raga no poi ci posso credere c'è un altro di un altro no allora ragazzi miglior miglior opening del canale a mani basse miglior scusate io non c'ho le fuderine al volo ma intanto le carte le tratto abbastanza mettiamo per ecclesia no raga non ci posso credere ma che è veramente c'è pure maschera il buono insomma maganiera dai dai pure branded opening aspettate 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 mamma mia che tin che tin che tin dove minchia sei mamma mia ma stiamo scherzando raga dai ah shift e poi allora raga questo è cioè ok 4 tin 4 tin 4 tin e io sono troppo felice ragazzi detto questo fatemi sapere voi cosa pensate e cosa sbustate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti a tutti